La folla che si riversava nelle strade assalutanti. L'entrata in città avvenne alle nove e mezza, mentre nei quartieri alti si combatteva ancora contro i franchi tiratori. Il primo operatore alleato al seguito delle truppe riuscì a riprendere queste scene che sono le uniche autentiche dell'insurrezione napoletana. I tedeschi andarono via, ma i fascistici dietro fila da torcere sparavano dai balconi, dalle finestre, dalle terrazze, nascoste però non a faccia a faccia. Gli americani già erano entrati da giù, perché verso Santa Teresa noi sparavamo ancora contro una finestra e io stavo ginocchiata a terra, quando vedo un pezzo di colosso così e dicono che erano perché non li conoscevano, gli inglesi e gli americani non li avevano mai visti, mi guardò perché aveva le ciberne, l'elmette e compagnia bene. Dice ok, non posso mai dimenticare. Dice ok, non posso mai dimenticare.